Abbiamo fatto una brutta partita, quindi fuori dalla National League ci abbiamo provato nel finale, ma non c'è stato veramente nulla da fare, perché in tutta la partita diciamo che abbiamo giocato, sì, a tratti però, non come la Spagna che nel secondo tempo soprattutto ci ha surclassato a livello di possesso palla, la Spagna che ha tanta qualità tra giovani, tra allenatori come Luis Enrique, però è una Spagna che è la stessa che è battuta all'Europeo, è una Spagna che si è indebolita negli ultimi anni, senza Ramos, senza Casillas, senza tutti questi vari giocatori, ma non è questo il motivo per la sconfitta, abbiamo fatto una brutta partita, bene negli ultimi minuti, perché comunque avevamo spinta dei defosi, volevamo segnare, volevamo trovare il gol del pareggio dopo aver trovato il gol del 2-1, ma arriviamo con gradi, tutto con calma. Allora, partiamo che Donnarumma non deve essere fischiato, allora Donnarumma torna a San Siro in un ambiente in cui viene fischiato un 21enne che è andato al PSG per scelte, per, ok, soldi, però anche per scelte, per vincere qualcosa, cioè ci può stare, non vedo perché criticarlo però, è sempre un giocatore della nazionale, come si sente lui, essere fischiato a ogni pallone che tocca, però poi quando vi fa la parata, tutti a esultare, quindi veramente, veramente incoerenza questa, veramente bravo comunque Donnarumma, oggi anche se ha rischiato una papra, ma arriviamoci. Allora, il primo gol di Ferran Torres che ha fatto l'oppietta, veramente gran giocatore Ferran Torres, Bastoni non marca bene, però anche dal laterale viene l'azione, laterali Emerson e Di Lorenzo, non hanno fatto un gran lavoro, la mette in mezzo, comunque, anche se Emerson ha giocato una buona partita, lo stesso Di Lorenzo anche, però ha tratti male, Bastoni non marca in mezzo, palla in mezzo, trapinna vincente di Ferran Torres, che batte Donnarumma senza alcuna colpa, senza alcuna colpa, Donnarumma poi rischia la papera, mamma mia, ovviamente mette le mani, gli sfugge, prende il palo e Bonucci salva, poi pure Bonucci, rosso che ha cambiato la partita, un rosso che ci può stare come non, è lo stesso rosso che abbiamo visto in tante situazioni purtroppo, non si sa se è rosso o no, qualcuno dice di no, però in situazioni l'hanno dato uguale, quindi ci può anche stare, però purtroppo quindi ci lascia il capitano. Comunque Donnarumma, ok, e lo 0-2 arriva di Ferran Torres, che fa una doppietta di testa, poi quindi diciamo che l'Italia poi prende rosso con Bonucci e ti ha sventrato al primo tempo. E poi centrocampo Italia oggi inesistente, tranne in qualche occasione, però veramente male male, Locatelli bravo di fisico, di forza a farsi valere, ha fatto una buona partita. Il migliore in campo Federico Chiesa, perché si lotta con gli avversari sulla fascia, al centro, riesce a fare il gol del 2-1, è tutta opera di Chiesa. Chiesa ruba palla al centrocampo, corre fino all'area di ricorda della Spagna, fa il tapino per incente. Lorenzo Pellegrini, che veramente i numeri eclatanti in questo inizio di stagione, fa ancora gol e prova a far riprendere l'Italia. Possesso però palla solo Spagna. Le uniche occasioni offensive che l'Italia ha avuto pericolose sono il tiro di Chiesa, parato da Unai Simon, i due pali. Sfortunati veramente pure. Prende due pali l'Italia, quindi molto sfortunato, uno di Chiesa e l'altro di Bernardeschi. Purtroppo non è la stessa idea dell'europeo. Non so se alcuni si sono esaltati, alcuni no, però ci hanno messo grinta quest'oggi, ci hanno messo cuore. Soprattutto nella parte finale, però abbiamo sofferto con l'Ungheria, mi pare, in questi amichevoli di... Dopo l'europeo, con la Lituania, avversari da sventrare se sei vincitrice dell'europeo in carica. Oggi vedi con la Spagna che aveva eliminato l'europeo, anche soffrendo, ma oggi ci potrà stare la Spagna. Però è proprio fatto l'approccio male, andando subito sotto di due. I due pali di Chiesa e Bernardeschi, il migliore è Chiesa, come abbiamo detto. Pellegrini entra in campo e entra Ken, che comunque... Perché Mancini schiera a Bernardeschi, c'entra avanti, io non capisco proprio. Entra Ken, ci prova Ken. Pellegrini fa il gol col tapin di Chiesa che prende palla, va, va. Veramente tutto. E purtroppo siamo stati eliminati da questa competizione, domani ci sarà Belgio-Francia. E vedremo lì chi passa, sarà anche una bella partita. Manca comunque, cioè, quel rosso che ha sventrato, perché si è rimasto un uomo in meno tutta la partita. Poi un uomo come Leonardo Bonucci. E poi è entrato Ghiellini, ci siamo fatti valere da indefesa, solidi, Ghiellini un leader. Però poi in realtà poco arrosso, perché poi non sei riuscito a fare il gol del pareggio. Ci abbiamo provato, la punizione di Calabria all'ultimo minuto la mette in mezzo. Nessuno ci arriva, ma perché Calabria comunque ha fatto una punizione veramente troppo sbilanciata fuori dal... Cioè, palla che prende una Esimon facilmente. Comunque siamo arrivati in semifinale. Brava Italia, sicuramente dovevamo vincere, questo torneo era importante. Però abbiamo visto, abbiamo difficoltà. Oggi non c'era Immobile per infortunio e quindi senza il bomber. Poi Mancini mette Bernardeschi. Bernardeschi, non capisco, deve mettere Ken dall'inizio. O comunque Raspadori ce l'hai. Io per me ho sbagliato la scelta da davanti, ma non si può rimproverare sicuramente Mancini. E niente, per questo è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Ci abbiamo creduto. Dai. Niente da fare.